bentornati bentornati nel mio gameplay bella ragà bella tutti adesso siamo qui adesso adesso giochiamo ma quello è quello con l'acqua ma che bello l'acqua i giorni con l'acqua e l'estate aiutatemi 1 e rip e ho bisogno che devo fare perché nell'acqua ecco riusciti nell'acqua erano belli era bello quando in e oh ma oh no e porta la chiusa cosa posso fare attivare la porta come posso aspetta grazie che bella musica che quando diceva sembra bello quando ha detto prima così bella bellissima arrivo ritorno dall'acqua aspetta ma futuro mondo nuovissimo e più acqua mondo di di eggman siamo mondo di eggman mondo di eggman eh mondo di eggman eh perché il mondo di eggman è fatto qui ed è un mondo di spuntoni gli spuntoni eh attenti ai spuntoni eh oh ma no ecco 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 ec io non conosco questo suono è che la no zero rip perchè sono ritornato indietro ma quel è il suono dell'adf ma così potevo morire Filippo no ma no game over musica questa mi sembra una musica da cattivo eh comportati male Eggman ecco ritornati lo so che Eggman è in moto aspetta c'è la pubblicità devo fermare eccoci ritornati ma no c'è anche i ponti eh questo è un'altra cosa ma no Sonic ma che vai potete fermare con il suono dell'adf vai che faccio prende oh no prendo quello che si chiedeva Sì, sì. Finalmente il mondo di Eggman, questo è il mondo di Eggman, è il mondo di Eggman. Stai attento, che acqua? Eggman è molto cazzivo, ha giocato questo solo per uno scherzo. Eggman hai rubato il livello. Eh, pensavo che era un grip Oh no, ma come facciamo? Eh, niente C'era un corpo Ecco i ritornati Gollo? Quello dove si finisce? Mi hai riscordato quel ring grande, eh? Questo territorio finirà per 20 minuti Eh, ma vi dico che questo bisogni finisce per 20 minuti Ed è lungo, eh? Ah, è ritornata la fontana! Future! Future! Whee! Future! Future! ma no grazie il mondo di pensavo che non c'era ma il ring pass il il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rip, rip, 10 secondi e finisce per un'ora. Grazie a tutti. Dopo inizia il boss. Io spero che questo boss sia difficile. Quindi siamo a 11 minuti. Quindi è un video lunghissimo. Perché? Aspetta la pubblicità. Eccoci. Ben ritornati perché noi siamo in questo livello Eggman. Ma è il Metal Sonic quello. Quest'ulta non è... Ma è Eggman! 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 Sì! Ma... Eggman, ma dove sei andato? Ah, è andato di là. Da quella parte. Perdi di trovarlo, eh. Io... Io gli ho dato un colpo. Proprio Eggman. Eggman, mi odie, ma... VELOCITÀ! 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 Io sono la velocità! Ah, è andato a quella parte. EGGMAN! EGGMAN! Sì! Non sapevo, eh. Eggman, sei cattivo. Sei il re dei cattivi. Ring! EGGMAN, sei il migliore, eh. EGGMAN, ma... EGGMAN! Vabbè. EGGMAN! Quella testa d'uovo, dov'è? Sì! In acqua. Gioco d'acqua. Gioco d'acqua, eh. Uo-ho-ho-ho-ho. Posso prendere delle bolle? Queste bolle mi danno cura. Grazie, Eggman. E no, Eggman, sei cattivo. Grazie, Eggman. Sembra un gioco. Che non mi piace. E mi sono rispettato. Ring! Previeni subito. Grazie. Si è rotto. Ucciso. Finalmente abbiamo finito. Evviva! Fiori ritornati. Vi ricordo sempre di lasciare un like in questo video. E ci vediamo dopo dal prossimo video di questo gameplay. Ciao!